Salve, buongiorno a tutti, ben ritrovati, come state? È iniziata una nuova settimana e spero che possa essere abbastanza positiva per voi perché per me la precedente si è conclusa abbastanza male, cioè con una ruota bucata della macchina, quindi spero che voi vada decisamente meglio, ma è anche la settimana che ci porta alla finale del mondiale, dato che domani e dopodomani avremo le semifinali, interessanti, intriganti, ne ho parlato comunque nel video di ieri, ve lo lascio qui sopra nelle schede, ma è anche la settimana che ci riporta a vedere la Juventus perché poi sabato sera alle 19 giochiamo contro l'Arsenal a Londra, quindi sicuramente è una settimana importante, lato calcio giocato, molto, molto importante, è una settimana che entrerà nella storia per il mondiale, è una settimana che entra nei nostri cuori per la Juventus e il ritorno finalmente in campo dei nostri ragazzi. E attenzione che vedremo se poi anche gli ultimi giocatori della Juventus impegnati nel mondiale potranno tornare a casa un po' prima e quindi godersi le vacanze un po' prima rispetto alla finale, dato che Paredes e Di Maria da una parte e Rabiot dall'altra, sono soltanto gli ultimi tre bianconeri ancora in gioco a Qatar 2022. Allora oggi ragazzi vorrei fare un discorsino, non so, credo abbastanza interessante in realtà perché ieri sera sono stato impegnato, avevo una cena e quindi non ho prestato particolare attenzione a quello che accadeva su Twitter, poi mi sono reso conto di alcune cose che erano accadute lato gazzetta e quindi vorrei cercare insieme a voi di leggere questo articolo scritto da Giovanni Albanese proprio sulla Gazzetta dello Sport. È un articolo in cui vengono riportate le parole del GIP di Torino che ieri hanno fatto un po' il giro dei social e su con Twitter ovviamente in capo, in vertice, alle chiacchiere. Dice, sempre Giovanni Albanese, la Juve potrebbe essere in buona fede nella vicenda che la vede coinvolta come persona giuridica insieme a tutti i suoi ex dirigenti del CDA dimissionari, quindi stiamo parlando di qualcosa che è accaduto poi successivamente alle dimissioni del CDA, nell'ambito dell'indagine Prisma che prende in esame una serie di operazioni di mercato che avrebbero portato beneficio sui conti del club grazie a un utilizzo malsano delle plusvalenze. Secondo quanto scritto dal GIP del Tribunale di Torino, Ludovico Morello, stando agli atti disponibili in quel momento, se la Juve si è davvero attenuta alla prassi standard risulterebbe difficile ipotizzare un discartamento colpevole e quindi in definitiva doloso dei corretti criteri di contabilizzazione delle poste. Come scrive Morello, si è reso necessario un accurato approfondimento perché la società potrebbe aver agito in buona fede. Andiamo ancora giù. Gli elementi. Uno degli elementi che hanno convinto il GIP a non accogliere le misure cautelari, le interditeve per Andrangnelli e altre gente dell'Iventus è una frase del direttore sportivo bianconero Federico Cherubini in un'intercettazione ambientale raccolta dalla Guardia di Finanza il 22 luglio 2022, subito dopo gli accertamenti della Consob. Questa è la frase di Cherubini in intercettazione. Per fortuna, alla luce delle recenti visite, quindi appunto le visite da Guardia di Finanza, Consob, ci siamo fermati. Da quel momento non sono stati ravvisati i pericoli di reiterazione del reato. Ricorderete l'iterazione del reato che era il motivo per cui poi si sono dimessi Agnelli, Nedved, perché rischiavano appunto questa cosa qui. Nel provvedimento il giudice osserva che c'è un riscontro oggettivo alle parole del dirigente della Juve, perché se negli esercizi chiusi al 30 giugno 2019-30 giugno 2020 la voce plus valenza della cessione dei diritti dei calciatori era pari espettivamente a 126 milioni, quindi il 20.4% dei ricavi complessivi del club in esercizio 2019 e 166 milioni, 29.1% nel 2020, per esercizio chiuso al 30 giugno 2021, quindi stiamo parlando della prima campagna acquista dei Cherubini, della prima campagna acquista dei Grebis, era pari solo a 29 milioni, pari al 6.4% dei ricavi. Cherubini nella conversazione non faceva riferimento all'inchiesta della Procura di Torino, non essendone ancora a conoscenza, bensì all'apertura degli accertamenti da parte della Conso, di cui la società era stata messa a conoscenza qualche giorno prima. Quindi questa è un po' la motivazione del GIP e che ti dice in realtà Juventus in questo mondo, in questo momento potrebbe essere in buona fede perché le plusvalenze sono qualcosa che sono sempre fatte e comunque si sono fermati, quindi non c'è reiterazione del reato, è stato fatto soltanto in quelle due annate, in quei due bilanci che sono stati pompati dal discorso plusvalenze e poi si sono fermati cambiando un po' il tutto. Quindi secondo il GIP, questa cosa, ecco, leggiamo, manovre e stipendi, le modalità con cui sono state portate avanti dalla Juventus le cosiddette manovre e stipendi dal 2020 al 2021, si possono considerare certamente illecite, al punto che si condivide con la pubblica accusa la sussistenza di gravi indizi. E' quanto scrive il GIP Ludovico Morello. Il giudice ha però respinto le richieste di misura cautelare presentate dalla Procura per mancanza di rischio di trazione del reato. Le manovre erano legate all'emergenza Covid, quindi è un periodo storico non più attuale. Quindi secondo il GIP questa cosa della Juventus è stata fatta appunto perché in quel periodo Covid c'erano delle difficoltà e quindi si è cercato di massimizzare un po' il discorso legato alle plusvalenze. In realtà conoscendo un po' la storia della Juventus non è esattamente così. Cioè Juventus avrebbe comunque continuato il discorso plusvalenze con delle persone a capo dell'area sportiva della Juventus come prima. La Juventus ha cambiato, è passata da Paratici a Cherubini, ha svoltato, forse perché non era più soddisfatta di questo procedimento. Può essere, può essere, perché se voleva dare un taglio netto al discorso plusvalenze c'è una delle intercettazioni in cui Cherubini e Paratici su questo discorso litigano molto. E probabilmente Juventus si è resa conto di non poter più andare avanti in quella direzione e ha voluto cambiare. Quindi ha cambiato. Vuoi, ha cambiato perché c'era il rischio di interazione del reato? Può essere, ma fino adesso anche il Jeep ammette che non c'era possibilità da parte di Juventus di fare qualcosa di illegale perché non c'è una regola che va a delineare questa cosa qui. Insomma, passatemi il termine. Ve lo sto dicendo quanto più terra a terra possibile perché mi ha letto comunque un articolo con dei tecnicismi. Vi voglio cercare di raccontarvelo un po' più nel facile. Le manovre stipendi sono considerate illecite comunque dal Jeep. Condivide la pubblica accusa, quindi considera che ci siano dei gravi indizi e su questo si andrà probabilmente, non lo sappiamo ancora, a processo per cercare di capire se quelle manovre sono state effettivamente illecite. Perché il regolamento parla di attuale regolamento, no? Quindi se la Juventus ha, in quel periodo, quindi durante il Covid, ha sottoscritto delle scritture private che andavano contro il regolamento dell'epoca, allora c'è qualcosa che non va. Però il regolamento dell'epoca, ricorderete, con una nota FGC, era stato modificato proprio per una situazione di emergenza, come dice appunto anche il Jeep qui. Cosa significa? Proviamo a tradurla questa cosa. Perché ieri c'è stato un po' di confusione? Perché sono tornate fuori queste parole del Jeep? Perché dico tornate fuori? Perché in questo momento vengono riportate queste parole del Jeep, con Juventus in buona fede sulle plusvalenze, il discorso plusvalenze che viene meno, il discorso stipendi non è nemmeno venuto fuori così tanto in realtà. In realtà questo articolo di Giovanni Albanese, ragazzi, io vi ho letto un articolo del primo dicembre 2022. Stiamo parlando di un articolo di 12 giorni fa. Ieri sono tornate fuori, sono ricominciate a circolare queste parole del Jeep. Non so bene perché. Qualcuno ha iniziato a riportarle, qualche articolo ha iniziato a riportare. Da quanto ho capito, Tutto Sport ha fatto un articolo su questa cosa e quindi la voce si è diffusa a macchia d'olio. E Gazette è stata accusata di non aver riportato le parole del Jeep. Il problema è che queste parole erano vecchie di 12 giorni. La diattriba, la polemica nasce dal fatto che comunque Gazette non si è fatta scrupoli a ripubblicare intercettazioni che erano comunque già state ripubblicate, intercettazioni vecchie del 2021, e comunque senza gravi contenuti, senza danni eventuali all'interno di un eventuale processo, perché non si dice niente, ma erano intercettazioni vecchie ripubblicate. Quindi da questo punto di vista, certo, non è proprio professionalmente qualcosa di magico. Ecco, se è una roba l'avevi già pubblicata, non vedo il motivo per ripubblicarla. E queste parole del Jeep ci stanno a ripubblicarle perché sono vecchie, ma allora allo stesso tempo quelle intercettazioni precedenti non aveva senso pubblicarle. Poi c'è sempre da ragionare un attimino, secondo me, sul discorso legato ai giornalisti che scrivono gli articoli e la linea editoriale che viene data dal giornale, perché sta tutta lì la differenza. Non è che il giornalista si prende su e decide tutto lui, cioè ovviamente c'è una linea editoriale da seguire. Però questa è la situazione. In passato, recentissimo, delle intercettazioni vecchie sono state riproposte, le parole del Jeep ieri sono venute fuori e ci sta che Gazzetta non le va da riportare. Le aveva già riportate, l'abbiamo letto, l'abbiamo visto, l'articolo di Giovanni datato primo dicembre. Perché ieri c'è stata un po' di confusione in cui Fabiana della Valle su Twitter diceva che noi le abbiamo riportate a tempo debito, è colpa di quegli altri che non le hanno riportate e allora le riportano oggi come se fossero una notizia. E secondo me questo ragionamento ci sta, è logico. Ribadisco, la linea editoriale invece di tanti quotidiani, compresa Gazzetta, quando riportava intercettazioni in prima pagina come se fossero notizie fresche, a me non è piaciuto. Non mi è piaciuto, ma come mi piace oggi che non vengano riportate per l'enesima volta parole di dieci giorni fa, perché non avrebbe senso. La partita comunque si gioca tutto lì, anche secondo il GIP si gioca tutto lì, sul capire se quelle manovre stipendi durante l'epoca Covid erano legali o illegali, perché probabilmente sono state illecite per un regolamento, però bisogna verificare con il cambio di regolamento che aveva coinvolto tutte le squadre in Serie A per la possibilità di far fronte alla situazione di emergenza, se Juventus comunque si è comportata bene o si è comportata male. E per questo, ripeto, eventualmente ci sarà un processo e si andrà a vedere. Discorso di missioni, l'iterazione delle atto secondo il GIP non c'è, e quindi comunque Agnelli, Nedved, così, potevano anche non dimettersi, loro per sicurezza l'hanno fatto, e anche qui ci sarà un processo e andrà a valutare. Quindi, in realtà grosse novità non ce ne sono neanche da questo punto di vista. Però io ammetto di averci messo un po' perché continuavo a leggere dei tweet, delle notizie, dei commenti che mi riportavano questa situazione, ma io questa situazione la ricordavo già, e quindi stamattina che cosa ho fatto? Sono andato a farmi una ricerca all'interno proprio di Gazzetta, all'interno di altri portali, per leggere le notizie precedenti in cui parlava appunto il GIP, e con mia grande sorpresa ho letto che i trafiletti che venivano riportati ieri su Twitter erano gli stessi trafiletti che vi ho letto nell'articolo di Giovanni datato prima dicembre. Quindi in questo momento è abbastanza facile fare confusione. Però, vedete, questa è proprio una sorta, tra virgolette, di guerra mediatica. Perché la testata che riporta intercettazioni vecchie è da condannare tanto quanto la testata che riporta la decisione del GIP, le parole del GIP, dopo dieci giorni, e tra l'altro togliendone anche un pezzettino. Quindi questo articolo che vi ho letto adesso non sposta niente ad oggi, come non sposta niente alle intercettazioni vecchie. Quindi è proprio una battaglia mediatica tra chi vuole riportare la cosa che danneggia la Juve anche se vecchia e chi vuole riportare la cosa che difende la Juve anche se vecchia, omettendo una parte di buona fede da una parte, omettendo una parte di mala fede dall'altra. È proprio una battaglia mediatica. E capisco che sia difficile anche starci dietro a questa cosa, perché ribadisco, io stamattina ci ho messo un paio d'ore a collegare tutto, leggendo i commenti, leggendo le parole del GIP, facendo la ricerca. Quindi mi sembrava doveroso anche cercare un po' di spiegare a chi dall'altra parte magari non ce l'ha quelle due ore a disposizione per cercare di completare il puzzle, di completare il collage. Quindi questo è. Sicuramente la stampa oggi ci sta un po' sguazzando, no? Nel discorso legato a tutta questa situazione Juve. Come vi dicevo, ieri o l'altro ieri si sta un po' sgonfiando, si sta un po' raffreddando. State vedendo, no? Che in questo momento c'è sempre meno da dire, perché tutto quello che è venuto fuori fino ad adesso è tutta roba vecchia. Infatti cosa si fa? Si riportano intercettazioni vecchie, si riportano dichiarazioni vecchie, si cerca di dare o la speranza a chi vuole la Juve radiata o la speranza a chi vuole la Juve pulita. Ma alla fine, se ci sarà un processo, sarà l'unico vero modo di stabilire se c'è stato qualcosa di irregolare lato Juventus. Per il momento non si è mosso niente. Ribadisco, noi siamo fermi alle notizie di fine novembre quando si dimettono Agnelli e gli altri. Tutto il resto è soltanto chiacchiera che abbiamo fatto fino ad adesso. Ma ci sta. Durante i mondiali senza Juve c'è da chiacchierare. Però si sta facendo un po' di confusione. Quello sì.